Buon pomeriggio, ben trovati a questo secondo appuntamento con le notizie dal web della città, l'ultimo appuntamento della settimana, siamo online in questo momento sul canale YouStream di Torino a partire dalle ore 17, saremo online anche su YouTube. Cominciamo come sempre con alcune notizie per questa sera e per la giornata per il fine settimana. Intanto vi segnaliamo i lavori, un divieto di transito, quello in via Aquila, angolo via Capua per lavori edili, notizie per il weekend, vi segnaliamo il Festival Internazionale dell'Oralità Popolare, sino a domenica le piazze Carignano, San Carlo, Carlo Alberto, le vie Cesare Battisti, Accademia delle Scienze e il cortile di Palazzo Carignano diventeranno una vera e propria cittadella dell'Oralità Popolare, dove la cultura volatile, quella delle parole, verrà sviscerata e proposta in tutte le sue forme. Questa è la quarta edizione, l'orario di oggi è fino alla mezzanotte. Per la giornata di domenica vi segnaliamo dalle 8 fino alle 18 in piazza Benefica il mercatino tematico con prodotti della Campania e serata a ritango argentino dalle 18 alle 23.30 presso la Galleria Subalpina. Continuiamo con le previsioni del tempo, i dati dell'ARPA Piemonte ci segnalano la temperatura in questo momento intorno ai 30 gradi con un'umidità del 41%. La variabilità che ha caratterizzato la nostra area proseguirà fino alla giornata di domenica quando una forte rimonta dell'anticiclone africano favorerà un deciso miglioramento del tempo con un aumento della temperatura. Domani le minime e le massime e anche domenica oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi le minime e le massime tra i 28 e i 32 gradi previsioni di tempo poco nuvoloso per la notte di oggi. Continuiamo segnalandovi alcune notizie dal web della città. Vi parliamo quest'oggi di concerti e spettacoli. Sono disponibili i programmi delle principali rasseglie dell'estate torinese. Si attende in particolare il Traffic Free Festival dall'8 all'11 luglio. Quest'anno, lo ricordiamo, non sarà più alla Pellerina ma si sposta ai giardini della Reggia di Velleria. I principali appuntamenti sono quelli con Stuart Copland, J. Axel, Vilicio Capossella, Marelle Kunz, Lost Caparezza e Franco Battiato. Concludiamo la puntata, anzi ci avviciniamo alla chiusura prima di darvi qualche segnalazione di spettacolo. Vi portiamo a vedere la città attraverso l'occhio delle nostre webcam. Ci colleghiamo quindi con Piazza Palazzo di Città. Il sole è splendido in questo momento sul Conte Verde e passiamo alla visione della vola antonegliana attraverso una telecamera della regione Piemonte, quindi il piazzale della rotonda Autostrada, Torino-Milano, traffico scorrevole. E finiamo con il Consorzio 5T che ci dà una visione della rotonda Baroncelli, l'alto a sinistra Corso Unità d'Italia, la rotonda a destra, in basso Corso Trieste e Corso Baroncelli. Vediamo dunque qualche appuntamento per la serata di oggi. Cominciamo segnalandovi un appuntamento di teatro, le Livro d'Or de Jeanne, lo spettacolo di Uber Colas che si tiene questa sera alla Camarerizza Reale in Via Verdi 9 alle ore 21. Per la regia di Julien Temple il Cinema Massimo proietta un film dell'86 intitolato Absolute Beginners alle ore 20.30 all'indirizzo Via Verdi 18. In file alle ore 18 vi segnaliamo la presentazione del libro Le Golosità del Commissario, Cibo e Trame in Camilleri. Autrice Cetta Berardo sarà presente all'appuntamento. Vi segnaliamo in file che sta per uscire il nuovo numero di Torino Web News. Questa settimana siamo andati a visitare per voi il Parco d'Arte Vivente, un insolito, un inedito, il treccio di arte, scelza e natura, il Via Giordano Bruno 53. Per quest'oggi è tutto. L'appuntamento con le notizie dal web della città è per lunedì alle ore 9.15. Ci ringrazio Mare Parilla che ci ha aiutato nella messa in onda della puntata e vi auguro un buon fine settimana.